Un uomo è stato accoltellato, sembra con un coltello da cucina, ad un braccio. La causa sarebbe scaturita da un banale litigio familiare, dalle parole se passati alle mani. Il ferito è stato trasportato d'urgenza questa notte in ambulanza al pronto soccorso di Agropoli, poi trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il paziente avrebbe varie e profonde ferite di arma da taglio ad un braccio. Sotto accusa l'accogliata di Agropoli, trattenuta in caserma dei carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, che stanno svolgendo le indagini del caso, prima di poter parlare direttamente con il ferito.